Io sono d'accordissimo, magari era meglio iniziarla prima, ormai siamo a fine stagione. Secondo me è fin troppo eccessiva. Fino a 500 euro di multa per chi dovesse girare per le vie del centro con indosso il solo costume da bagno. L'ordinanza sul decoro firmata dal sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, divide cittadini e commercianti del posto, tra chi la reputa giusta per garantire un maggior decoro e chi invece la ritiene fin troppo eccessiva. Un'ordinanza che sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre e che vieta di girare in costume a torso nudo senza calzature nelle vie e nelle piazze all'interno della cinta muraria del centro storico. Per i trasgressori la sanzione va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. In spiaggia ci può stare, ma se gira per la città è meglio che si metta su un copricostumo e se non altro. Forse è un po' eccessiva, però ritengo che comunque un po' di decoro non guasta, ma questo dipende poi dalla qualità del turista. Penso che una camicciola o una maglietta, non so come dire, ci facciano lo stesso, sopportare il caldo. Sì, sono d'accordo. Un po' di contenio perlomeno nel centro città, nel centro storico. Nell'ordinanza è inoltre incluso il divieto di sdraiarsi, dormire o bivaccare in quegli stessi luoghi, di mangiare e bere con contestuale occupazione del suolo pubblico, con alimenti, contenitori, sacchetti e carte. La nostra piazza è una piazza vicino alla chiesa, vicino al centro storico, che chiaramente ha delle caratteristiche diverse dalla spiaggia. Ecco perché questa ordinanza.